Buongiorno, buon venitato. Buongiorno, buon venerdì 11 di agosto. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Iniziamo la nostra rassegna stampa andando a vedere come di consueto le prime pagine dei quotidiani regionali. E allora iniziamo dal quotidiano Il Centro. Questa è l'edizione di Pescara. Il titolo di apertura è notte dello shopping senza le auto. A Pescara domani la grande festa in centro. Dalle 18 scattano i blocchi del traffico. E poi nelle cronache davanti ad uno stabilimento aggredito sul lungomare grave un turista tedesco. Ancora andiamo a vedere in provincia estate di fuoco in fumo 12 ettari di sottobosco. E poi per quanto riguarda il calcio, l'amichevole Pescara KO vince il Pineto. Embalo intanto è vicino a vestire la maglia del Pescara. A centro pagina l'attore torna a casa show questa sera al teatro d'annunzio. Ovviamente parliamo di Enrico Brignano che vedete nella fotografia. Ricomincio dall'Abruzzo, tutto esaurito per lo spettacolo in programma questa sera. All'interno poi troviamo rogo e verbali, incendio sul Gran Sasso, ecco le carte. Poi un richiamo dalle cronache internazionali, allarme dell'ONU, Yemen affogati dai trafficanti di esseri umani. Nel taglio basso il Buongiorno Abruzzo, firmato anche questa mattina da Giuliano Di Tanna, con gli oggetti spariti dei vecchi film in tv. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Adesso passiamo alla edizione di Chieti-Lanciano-Vasto. Titolo di cronache in apertura, febbre alta, tre morti in poche ore. Due casi a Lanciano, le vittime di Vasto e San Salvo. La terza invece a Chieti, eseguita una autopsia. Nelle cronache a San Salvo, deceduta da due giorni e giallo per una 37enne, il corpo della donna ha portato via, lo vedete in questa fotografia dall'abitazione di via San Domenico Savio. E poi continuiamo a Chieti del vecchio di Fida, l'università, e poi direttore della Sasi, ecco i nomi dei candidati. Andiamo ancora avanti, sempre sul quotidiano Il Centro. Passiamo all'edizione di Teramo. Rogo del Gran Sasso, ecco le carte. Il titolo con cui apre il giornale, indagine interna del parco rivela solo otto righe di istruttoria per autorizzare il mega raduno a Fonte Vetica. E poi, nelle cronache scuole e terremoto, Cady e Rani, i moduli vanno alla D'Alessandro. Ancora Giulianova, pronto soccorso, preso d'assalto con attese di ore. Situazione questa, purtroppo, che si ripete in quasi tutti gli ospedali d'Abruzzo. Ancora, la bonifica, sempre più multe ai clienti e alle prostitute. Andiamo a vedere anche di spalla all'interno, sagre e polemiche, lo spot sulle donne e la porchetta diventa un caso. Spot che recita, ogni donna merita di essere guardata come se fosse un panino con la porchetta di Campli. Questa è la pubblicità che sta facendo discutere. Continuiamo sempre sul Quotidiano Il Centro, ultima delle quattro edizioni provinciali, quella di L'Aquila, Vezzano, Sulmona, Rogo, Del Gran Sasso, ecco le carte. Ancora una volta si ribadisce anche questo titolo, l'istruttoria per il mega raduno soltanto di otto righe. Ovviamente notizia questa a cavallo fra le province di Teramo, Pescara e L'Aquila. Dunque sia nelle due edizioni viene riproposto il titolo. Nelle cronache, truffa post terremoto in due, sotto processo all'Aquila e poi la polemica. Castello chiuso a Celano, i turisti sono infuriati. Da Sulmona invece, centro libero dalle auto, parte l'esperimento nel centro storico Peligno. Continuiamo sempre con i quotidiani regionali. Adesso cambiamo testata però. Passiamo sul messaggero Abruzzo. Donne e morte, doppia tragedia, il titolo di apertura. Vasto, Adriana D'Aloisio, di 51 anni, colpita da febbre alte, del decesso all'ospedale di Lanciano. A San Salvo, madre di due figli, trovata senza vita nella sua abitazione, la fine risale a due giorni prima. E poi sulla sanità, il caso Paolucci, minoranze, scontro sulla sanità. Dai bollori registrati nelle sale d'attesa dei pronto soccorso a quelli della politica, la sanità torna a riproporsi come il più fertile terreno di scontro, soprattutto dopo l'intervista rilasciata al messaggero dall'assessore Paolucci che indica nella mancata organizzazione delle ASL in alcune cattive abitudini dei cittadini come quella di andare in pronto soccorso per tutto i motivi di questo sovraffollamento dei nosocomi. A centropagina continuiamo. Roghi, i ragazzi danno la colpa agli uni, agli altri. Ovviamente si torna a parlare di quanto accaduto sul Gran Sasso, Fontevedica, trovati i resti del barbecue verso la denuncia di 14 pescaresi. Andiamo a leggere un estratto dell'articolo, racconti discordanti con troppi, non ricordo, non so. Le ricostruzioni degli istanti che hanno preceduto il devastante rogo di Campo Imperatore stanno avendo come unico obiettivo la copertura del gruppetto di campeggiatori. Si avvia inevitabilmente verso la segnalazione di tutti i 14 ragazzi di Pescara per il reato di incendio colposo l'inchiesta che sta portando avanti la forestale che già entro oggi potrebbe consegnare gli ultimi atti alla Procura dell'Aquila. Restiamo a centropagina. Le operazioni due palazzi in pieno centro per la sede dell'Isia, Pescara-Abruzzo attivismo immobiliare, due pregiati immobili nel centro di Pescara, leggiamo dalla Didascalia, troppi per l'esigenza di dare una sede all'Istituto di Design Industriale, svelano i nuovi interessi della ex fondazione bancaria. Andiamo a vedere anche di spalla, troviamo il turismo, Lolli, poche presenze, va bene soltanto il mordi e fuggi, stagione condizionata dalle calamità invernali. Ora c'è una debole ripresa. Scendiamo invece nel taglio basso, Giulia Nova, notizia anche questa di cronaca, gruppo Olivieri Sequestri della DIA, un maxi sequestro da 324 milioni di euro, quello eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria, maxi sequestro, che ha colpito i beni del defunto Vincenzo Liveri, imprenditore del settore oleario con proiezioni di tutto rilievo sia nel comparto alberghiero che in quello immobiliare e dei servizi, non solo in Calabria, ma anche in Abruzzo. Vincenzo Liveri, insieme al fratello Antonio, da tempo stabilitosi a Giulia Nova, era socio in numerose iniziative imprenditoriali, avviate sin dai primi anni Ottante, ed è stato anche all'interno della Pescara Calcio come vicepresidente. Poi, giorno e notte, Brignano al D'Annunzio, risate in salsa abruzzese, volley, bagno di folla per salutare la nuova Sie Cortone, poi il calcio, Pescara, cena di mercato tra Sebastiani e Zeman, intanto la squadra, farcita di seconde linea, ha perso l'amichevole per 2-1 a Pineto contro la locale formazione che milita in Serie D, rientra di Giannatale. Ieri sera, appunto, c'è stata questa amichevole. Andiamo ancora avanti con i quotidiani regionali, andiamo a vedere la città, il quotidiano della provincia di Teramo, in apertura, anche qui purtroppo, la cronaca nera, in coma dopo la caduta in piscina, turista torinese di 70 anni, batte la testa in un hotel di Silvi, in rianimazione, lotta tra la vita e la morte. A centropagina, Giulianova, decapitata la madonnina dello splendore, stupido sacrilegio, il titolo sulla fotografia dell'icona danneggiata. E poi, di spalla, Corropoli, dona 100.000 euro per i lavori alla chiesa, Valle Castellana, Roghe e Stivi, la regione chiama anche l'esercito, Alba e Martinsicuro, bufale e allarmi infondati per i nuovi migranti. Nel taglio alto, le scuole sicure, il comune punta sui posti, all'acqua viva. E ancora, lungo stop a Ferragosto, ennesima balla sui lavori di Corso San Giorgio per quanto riguarda il centro di Teramo. C'è poi l'intervento di Davide Francioni, porchetta e femminile. Abbiamo già visto anche sul centro le polemiche per lo slogan scelto per la Sagra di Campli. Nel taglio basso, La Cultura, a Castelbasso 2017, stasera Simona Molinari in concerto sulle note di Ella. Andiamo adesso ai quotidiani nazionali, andiamo a vedere le prime pagine dei principali giornali italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. I vescovi alle ONG rispettate le leggi contro gli scafisti e il titolo di primo piano del Corriere tolti bonus fiscali a Lampedusa che protesta. E poi, in primo piano, anche il Nord Italia con il maltempo, trombe d'aria e danni decine i feriti, immagini che parlano da sole, spiagge devastate dal maltempo in questa estate che, diciamo, scilla fra il caldo africano e il maltempo quasi con degli uragani di stampo americano. E poi, voglia di certezze, pensioni, ossessione d'estate, la riflessione di Dario Di Vico. Scendiamo, invece, a centropagina la Sicilia, notizia che arriva da Licata, cacciano il sindaco nemico delle villette abusive, minacce e attentate. Alla fine arriva la mozione di sfiducia che passa in consiglio comunale sindaco di Licata che vive sotto scorta per le minacce ricevute. Andiamo adesso sulla Repubblica. Il reportage in primo piano sulla nave italiana a Tripoli i libici in missione insieme in mare contro gli scafisti i vescovi alle ONG le leggi vanno rispettate. E poi il PD diviso su Alfano Pisapia serve un altro progetto sul patto emergono dubbi nei centristi. Andiamo a vedere di spalla Rigopiano nell'alpeggio della rinascita il racconto che arriva proprio dalla nostra regione e da dove purtroppo a gennaio è successa la tragedia dell'hotel travolto dalla valanga. E poi a centropagina c'è un'intervista al ministro Calenda le mosse di Macron sui cantieri mi ricordano Berlusconi e questo è un estratto della intervista. Andiamo adesso sulla stampa il quotidiano di Torino in primo piano pone questa notizia costi alti e burocrazia frenano l'azione dei volontari italiani dai comuni che sfrattano le associazioni agli adempimenti Roma chiede l'assicurazione a chi cura il verde gratis e poi i vescovi ONG niente pretese agli scafisti questo è il richiamo della CEI carità ma le leggi vanno rispettate intanto orrore in Yemen altri profughi vengono gettati in acqua un'altra notizia curiosa nella fotografia vedete ritratto uno squalo e il fascino del predatore torna di moda lo squalo documentari e Hollywood consacrano il cattivo dei mari nel taglio basso notizia curiosa le sexy bagnine turbano la spiaggia di Gigan sono state costrette a sostituire il bikini con i pantaloni dopo un'ondata di finti malori andiamo sul fatto quotidiano ora i conti del 2016 ecco chi finanzia la cassaforte di Renzi 2 milioni in un anno dall'armatore onorato a Campari il bilancio della fondazione Open e poi nel taglio alto ritroviamo il tema dei migranti ONG il capo dei vescovi si schiera con Minniti Monsignor Bassetti mai collaborare con i trafficanti questa viene definita la svolta dal fatto quotidiano e poi la procura di Napoli intercettate il fatto notizie su Consip il piano dei PM è stato fermato dal GIP continuiamo con il sole 24 ore il quotidiano economico e finanziario principale d'Italia in apertura fisco per i pagamenti il giallo della proroga il decreto di rinvio a lunedì 21 agosto non è stato ancora pubblicato in gazzetta da professionisti imprese attesi 22,6 miliardi scendendo le infrastrutture elasticune una grande incompiuta e vedete proprio la strada che si blocca a metà ancora Team Vivendi scendono in campo i fondi 5 consiglieri chiedono l'integrazione dell'ordine del giorno del prossimo CDA sulla governance andiamo a vedere anche il panorama di spalla migranti marina italiana in azione solo su richiesta dei libici la CEI linea dura su NG e scafisti poi l'agguato a Foggia Minniti la risposta dello Stato sarà durissima queste le parole del ministro dell'interno appunto dopo la strage che ci è stata a Foggia il ministro ha promesso rinforzi con 192 agenti aggiuntivi per controllare meglio il territorio e poi la crisi fra Corea e Stati Uniti Pyongyang pronti quattro missili su Guam Seul tenta la strada del dialogo la Corea del Nord riviena i piani di lancio dimostrativi di quattro missili nel taglio alto il tradizionale focus dedicato al lavoro nero voucher maxisanzione senza automatismi andiamo avanti e andiamo a leggere le altre le altre pagine nazionali vediamo se riusciamo a recuperare la prossima pagina quella del messaggero eccola qui polizia e militari ecco gli aumenti il titolo di apertura in media oltre 200 euro in più con il nuovo contratto incrementi maggiori per i pompieri rughetti più risorse per chi opera sulle strade sblocco salariale per il servizio sanitario a centro pagina la presa di posizione del Vaticano dopo i contatti con il Viminale per quanto riguarda i migranti e svolta dei vescovi sulle ONG c'è una legge niente aiuti agli scafisti di spalla troviamo anche il ministro Minniti in Puglia subito 200 agenti di rinforzo strage di Foggia Minniti in Puglia durissima sarà la risposta dello Stato e ancora ATAC troppi ritardi e corse cancellate siamo alle cronache romane stangata dell'antitrust scatta la maximulta da 3,6 milioni nel Milino Roma Lido e Roma Viterbo ora sul tempo restando ai quotidiani romani amatrice e accumuli beffate 0 euro dalla beneficenza secco i soldi degli SMS solidali destinati solo agli altri comuni parla il sindaco Pirozzi hanno tradito la volontà degli italiani a centropagina l'intervista al presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Cantone io in politica mai tornerò giudice l'inchiesta non è un alibi dice Cantone per chiudere la Consip che vi ricordo è la centrale degli acquisti poi ancora andiamo avanti con la lettura dei quotidiani nazionali passiamo al manifesto il quotidiano comunista ora Pronobis il titolo sulla fotografia che ritrae un barcone carico di migranti andiamo a leggere la didascalia le ONG rispettino la legge il nuovo presidente della CEI Cardinale Bassetti schiera i vescovi sulla linea dura di Minniti non dare pretesti agli scafisti l'ONU dice condizioni terribili nei centri di detenzione libici un'altra strage di profughi in Yemen intanto più di cento i morti in due giorni ancora notizia che arriva da Alicata abbattuto il sindaco anti-abusivismo scontro con i 5 stelle favorevoli ai condoni scrive il manifesto continuiamo su avvenire ovviamente in apertura sul quotidiano cattolico le parole del Cardinal Bassetti coi profughi e contro l'illegalità il presidente della CEI sottolinea la responsabilità di difendere i più deboli e rispettare la legge non dare pretesti agli scafisti e poi a centropagina poca elettricità sanità al collasso Hamas i 10 anni che hanno portato Gaza al disastro per quanto riguarda la crisi nordcoreana Kim minaccia un attacco a Guam Trump risponde siete nei guai la base statunitense nel mirino e il rischio di una guerra atomica ora libero il quotidiano diretto da Vittorio Feltri in apertura Raggi e De Magistris Iatture e ora cari italiani pagate le porcate di Roma e Napoli le ferrovie dello Stato si addossano i debiti delle aziende di trasporto delle due città li scaricheranno sui viaggiatori e poi altra notizia che arriva dalla nostra regione con un'intervista all'ex presidente Ottaviano del Turco il mio amico Orso Rocco che ha divorato 17 galline La verità ora il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro risalgono i tassi 40 mutui per salvarsi fine effetto Draghi e nuove norme due tipologie di casa periferia e centro e calcoli sulle percentuali reali vi spieghiamo quando è meglio il fisso e quando è meglio il mutuo a tasso variabile e quali istituti praticano le migliori condizioni per i clienti quindi un'apertura diversa quella scelta dalla verità sulla economia e poi l'intervista con il ministro Orlando il PD sbaglia la linea meglio perdere che stare con il Cavaliere nel taglio centrale la Nato terroristi a Lampedusa Renzi approviamo lo IUS soli l'ex premier racconta Stoltenberg mi confidò i suoi timori questa fu la mia risposta andiamo sul secolo d'Italia il quotidiano che fa riferimento a fratelli d'Italia prima la famiglia e il titolo di apertura con la foto di Giorgia Meloni che è il leader del partito primo filone l'imposizione fiscale generale va spostata dalla persona al nucleo familiare e poi ci sono le altre proposte avanzate da fratelli d'Italia e poi in primo piano ONG migranti e codice dalla CEI parole chiare dice Maurizio Gasparri ancora Lampedusa e vendetta PD in arrivo stangate fiscali e poi in vacanza con la scorta e a spese dei contribuenti per quanto riguarda i costi della politica la tenuta presidenziale di Castelporziano è un'osi naturalistica unica nei suoi 6.000 ettari ci sono un castello un borgo alcune ville romane un museo archeologico e poi varie specie di animali selvaggi e protetti pianterare e un arenile di 3 km incorniciato da una delle ultime macchie ancora intatte la foto la foto che vedete è quella della presidente della camera Boldrini il mattino ora il quotidiano napoletano apre coi migranti Libia vietata alle navi ONG stop del governo di Tripoli e le imbarcazioni straniere nelle acque territoriali violenze sui migranti nello Yemen intanto è svolta della CEI si rispetti la legge nessun pretesto agli scafisti a centropagina in scooter senza casco la sfida allo Stato il carosello di decine di moto a Napoli sotto gli occhi di polizia e carabinieri e dalla Sicilia ultimo blitz ritornano le province in primavera si rivoterà con l'elezione diretta ovviamente la Sicilia è regione a statuto speciale e poi nel taglio alto al San Paolo è 2 a 0 in gol Mertens e al Biol per il calcio il Napoli da spettacolo contro le Spagnole e ora la Champions andiamo sul secolo XIX il titolo di apertura anche qui riguarda i migranti o NG la CEI sta con il governo Tripoli ordina navi straniere lontane 180 km dalla costa Bagnasco fa un appello alle parrocchie intanto il Cardinal Bassetti dice rispettate le leggi nessun pretesto agli scafisti a centropagina una notizia di spettacolo Pitt e Jolie prove di riavvicinamento fra le due star del cinema sorpresa a Hollywood Brad e Angelina stop al divorzio andiamo a vedere adesso i quotidiani nazionali sportivi iniziamo dalla Gazzetta dello Sport il titolo è dedicato all'Inter in apertura operazione qualità è un Inter molto chic e qui ci sono i vari diciamo giocatori nell'orbita della squadra nero-azzurra ovviamente in primo piano c'è l'attaccante della Sampdoria chic e poi andiamo al San Paolo vittoria 2 a 0 e Mertens Show Napoli superato il Test Champions domina l'Espagnol nell'ultima prova prima del Nizza raddoppio di Albiol per Onas Paolo e Applausi poi domenica la Supercoppa con la Lazio Juve che numeri di bala 10 lode Allegri 5-5 l'Argentino maglia da sogno tante le responsabilità per la 10 bianconera il tecnico fa mezzo secolo mira alla terza finale di Champions scendiamo Milan a caccia di Bomber Aubameyang si allontana ma Andresilva convince Montella carica il portoghese e poi il francese punito dal Dortmund Dembélé sparito e sospeso lo aspetta il Barcellona andiamo a vedere le altre notizie il trofeo Puerta la Roma KO 2-1 a Siviglia nuova offerta per Marez e poi su Rai Sport alle 21.15 Coppa Italia entra in scena la Serie A con Toro Trapani nel taglio basso i mondiali di atletica il turco Gugliev sorpresa di 200 tocca a Tamberi speranza nell'alto e poi il caso del nuotatore autopsia sul corpo di Dallaglio problemi al cuore la palestra sotto sequestro andiamo adesso sul Corriere dello Sport sondaggio i pronostici di 25 esperti stravince il Pipita plebiscito per Higuain capo cannoniere per la Juve giudicata più forte della scorsa stagione nonostante la cessione di Bonucci Milan Inter e Napoli in Champions Andrea Conti la rivelazione e poi nel taglio alto il Napoli Delizia Mertens un gol alla Diego e ora c'è il Nizza Spagnolo battuto 2-0 la Roma qualche squillo dalla Spagna ma serve di più Zeco solo alla fine il Siviglia vince 2-1 e poi c'è lo speciale per la Premier League che comincia tutti contro il Chelsea di Conte stasera c'è l'anticipo fra Arsenal e Leicester nel taglio basso Inter invito a cena per Schick c'è il via libera della Sampdoria Dembélé sparito dopo il no del Borussia al Barcellona e poi domani ovviamente ci saranno i calendari di Serie C in regalo con il giornale calendari che verranno scoperti questa sera all'Aurum di Pescara andiamo a vedere anche la prima di Tutto Sport Strotman 45 milioni o niente segnali negativi dal Liverpool per Emre Can la Juve punta tutto sull'olandese alzata l'offerta alla Roma che rimane ferma sulla valutazione stabilita dalla clausola cresce la febbre per la sfida con la Lazio scatta l'avventura delle donne e bianconere Juve che appunto proporrà una squadra femminile poi il Toro e la notte del Gallo Coppa Italia al Grande Torino partita trasmessa da Rai Sport alle 21.15 il Trapani battezza la stagione di Belotti e compagni mercato con Rincon arriva Don Sa e poi ci sono le altre notizie Milan Karinic Karinic ora resta l'unico obiettivo per l'attacco dall'estero riparte la Premier si apre la caccia a Conte l'Inter con Schick arriva all'idoneità ma Ausilio vuole tutelarsi l'Atalanta riecco Deron vuole la 15 progetti per attirare i tifosi e l'Atletica mondiale all'ora di pranzo facciamo il tifo per Tamberi ora ci fermiamo per il break pubblicitario per andare a vedere anche e soprattutto le previsioni del tempo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6 eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 torniamo alle notizie dalla nostra regione riaprendo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi partiamo dal primo piano del centro roghi e verbali l'ok al mega raduno con una istruttoria di appena 8 righe indagine del parco del Gran Sasso il centro pubblica le carte la camera di commercio aveva assicurato i controlli vedete proprio le carte l'incartamento pubblicato dal centro 3 giugno la camera di commercio garantisce i controlli e poi il 5 di luglio il parco autorizza con 4 prescrizioni camera di commercio ondata di critiche sui social indignazione sdegno e sconcerto la pagina ufficiale su facebook della camera di commercio dell'Aquila dopo l'incendio di Fontevetica è stata invasa da post di protesta il presidente del parco Navarra e il direttore Nicoletti respingono le accuse il primo definisce sciacallo chi lo attacca l'altro scarica la responsabilità sull'ente camerale e Lorenzo Santilli nel taglio basso la difesa di categoria Federparchi Blinda Navarra e poi il nuovo caso a Villa Vallelonga spunta la sagra della pecora ancora da trasacco a Carsoli i sindaci vietati i fuochi continuiamo con l'altra pagina dove troviamo gli altri le altre missive sulle autorizzazioni per quanto accaduto a Fontevetica 3 luglio il parco fa la sua istruttoria con appena 8 righe poi in passato le prescrizioni erano 10 e non 4 scendiamo nel taglio basso altra notizia che riguarda sempre il ruolo di Fontevetica il WWF si costituirà parte offesa indagine chiusa entro Ferragosto il WWF che ha presentato un secondo esposto a firma del vicepresidente nazionale Dante Caserta altra polemica che riguarda le sagre questa volta non per gli incendi ma comunque è polemica donna e porchetta il parallelo diventa il caso dell'estate il post pubblicitario dell'evento di Campli fa discutere fra accuse di sessismo e commenti favorevoli sul web andiamo adesso a vedere la pagina della città la pagina Abruzzo che riguarda sempre quanto accaduto sul Gran Sasso il titolo è WWF parte offesa per il rogo del Gran Sasso presentato in procura all'atto di intervento sotto controllo le fiamme inizia la fase della bonifica intanto male il turismo secondo il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli il sisma del 24 di agosto scorso e poi la tragedia di Rigopiano hanno fermato le prenotazioni nel momento decisivo che tra gennaio e febbraio manca il turismo residenziale specie nel Terramano e quello religioso e scolastico dovuto a questa concomitanza di ragioni dice Lolli per quanto riguarda il trasporto pubblico la riforma tua in house della regione non piace alla CGL che questa mattina ha convocato una conferenza stampa andiamo adesso sulla pagina Abruzzo del messaggero andiamo a vedere un'altra notizia che riguarda invece la sanità l'estate bollente ospedali al collasso Forza Italia 5 Stelle CGL attaccano l'assessore Silvio Paolucci la regione non scarichi sulle asle le colpe delle sue inadempienze l'assessore i dati parlano chiaro il sindacato dice favoriti i privati anche noi abbiamo avvicinato ieri Silvio Paolucci l'assessore alla sanità della regione Abruzzo per noi l'ha intervistato Paolo Renzetti Assessore Paolucci da settimane ormai anche l'Abruzzo è immerso in preda al Gran Caldo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara ma non solo quello del Santo Spirito presi letteralmente d'assalto dai pazienti dai degenti come stanno reagendo gli ospedali abruzzesi allora complessivamente gli ospedali abruzzesi non mi sembra siano assorti a cronache nazionali di qualsiasi tipo di grave disservizio che meriti quindi da questo punto di vista non voglio tanto diciamo ragionare su questo ma quanto al contrario sul fatto che mi attendo che le asle gestiscano la rete assistenziale dei pronti soccorso nei 15 giorni poi prevalenti in cui ci sono una serie di problemi legati sia al caldo e sia evidentemente anche ai diversi ambulatori chiusi anche per ferie in modo più adeguato hanno gli accordi da dover sottoscrivere con i medici di medicina generale le AFT le UCCP hanno quegli ambulatori che possono mettere in campo libera discrezionalità sulle guardie turistiche mi aspetto che i ricoveri cosiddetti impropri cioè i codici verdi e i codici bianchi non vadano a sovraffollare in un momento così caldo il pronto soccorso da questo punto di vista sono le ASL ovvero chi gestisce che deve far fronte perché sa che ogni anno dal 10 al 20 di agosto può accadere questo al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara negli ultimi giorni ci sono stati però problemi con un'affluenza record di pazienti Sì, mi pare che il primario abbia fatto anche appello dicendo che è per i ricoveri che noi chiamiamo tecnicamente impropri ma che sono come dicevo quei codici bianchi e verdi che vanno lì a fare una lunga fila tutto sommato inutilmente di poter gestire le situazioni di più sulla medicina territoriale Andiamo avanti e torniamo sulla pagina Abruzzo del Messaggero altra notizia che riguarda la sanità un percorso per l'assistenza degli autistici bimbi seguiti passo passo dopo la diagnosi poi c'è la proposta del consigliere Bracco che lancia l'idea di un museo sensoriale andiamo sul centro torniamo nelle pagine di primo piano qui c'è lo sport l'Abruzzo nel cuore di Leo Junior indimenticato attaccante del Pescara quel Mundial del 1982 gli anni felici a Pescara 35 anni dalla storica spedizione azzurra di Berzotti in Spagna l'asso brasiliano torna in città e si racconta al centro e dice amo questa terra ovviamente poi potrete approfondire meglio le parole di Leo Junior continuiamo invece con la pagina di economia fracassi fidi in crescita per le imprese abruzzesi parla l'Aquilano neo vertice di Italconfidi il consorzio di garanzia con 888 soci nel 2016 ha permesso l'erogazione di prestiti agevolati per 12 milioni ora andiamo sulla pagina di Pescara restando sempre al quotidiano il centro l'apertura è dedicata alla festa nel cuore della città domani strade chiuse 9 ore per la notte dello shopping traffico bloccato dalle 18 e fino alle 3 di domenica sosta vietata anche su via Fabrizio e via Carducci il comune consiglia lasciate le auto nell'area di risulta per non intasare il quadrilatero centrale qui vedete segnate in rosso le strade chiuse domani e la notte di domenica continuiamo sempre con questo argomento negozi aperti fino all'alba lavoro mille persone fava di confessercenti snocciola alcuni dei numeri del grande evento di domani noi siamo stati primi a realizzare una notte bianca per fare gli acquisti dice poi le misure di sicurezza vietata la vendita di bottiglie e lattine nel taglio basso e sul lungomare si balla la disco nel taglio alto invece gli spettacoli e le iniziative alla manifestazione le band all'aperto suoneranno la musica anni 50 andiamo adesso a vedere l'apertura della pagina di Pescara del messaggero Pescara Abruzzo si tuffa nell'immobiliare e il titolo di apertura la fondazione acquisisce l'ex sede della polizia provinciale per ospitare l'istituto di design industriale contratto da 15 anni per lo stesso scopo due anni fa fu acquistato un immobile di via Michelangelo con 2,5 milioni accantonati per il restauro nel focus del taglio alto l'accordo siglato con la provincia rivela l'attivismo in campo edilizio una rete di relazioni imprenditoriali scendiamo altra notizia sull'edilizia fuori la verità sul palazzo Tintorelli Davide Pace teme una nuova licenza edilizia che eviterà la demolizione dello scheletro di sette piani sulla riviera andiamo avanti sempre sul messaggero andiamo a vedere un'altra notizia che arriva dal comune di Pescara il comune investe 12 milioni contro la povertà l'assessore Allegrino oggi illustra il nuovo piano sociale da portare in consiglio comunale sostegno ai clochard e poi notizia che riguarda la marineria dopo l'incidente diplomatico in Croazia multa è rientro in città per Mimmo Grosso e per la sua nave Nausicaa torniamo sul quotidiano il centro andiamo avanti con le pagine di Pescara ora la cronaca aggredito sul lungomare grave un turista tedesco il 22enne ha discusso con un villeggiante romano che lo ha colpito con un pugno in via Poerio due giovani picchiano un quarantenne e fugono lasciandolo a terra ancora cronaca rapina la farmacia e fugge con 500 euro in via del santuario e poi il pirata della strada spuntano le immagini ad alta definizione dopo l'investimento di mamma e figlio nel taglio basso sicurezza in mare due giorni per i bimbi torna la manifestazione papà ti salvo io domani all'orsa maggiore domenica alla bussola ieri la presentazione in direzione marittima a Pescara vediamo si parla di salvamento si parla di attività in mare per la sicurezza in mare come sta andando quest'estate troppe situazioni si sono venute a determinare per un atteggiamento imprudente un atteggiamento legato alla sopravvalutazione delle proprie forze una contestuale sottovalutazione delle condizioni del mare e questo è una cosa che fa riflettere perché fare il bagno con la bandiera rossa fare il bagno quando il bagnino magari ti fischia invitandoti non dico ad uscire ma a un atteggiamento più prudente e invece recarsi oltre la scogliera o in vicinanza della scogliera dove si vengono a creare o delle risacche che ti sbattono sugli scogli o degli effetti venturi chiamiamoli così che ti risucchiano al di là della scogliera verso il mare aperto è evidente che questo sta a significare che c'è un atteggiamento sbagliato all'origine innanzitutto di studiare dove avvengono queste cose se avvengono oltre gli scogli all'interno di una scogliera perché avvengono ed eventualmente insieme alle amministrazioni comunali insieme alle cooperative che si occupano di salvataggio individuare le soluzioni che possono scongiurare questi pericoli per esempio laddove ci fosse una scogliera in vicinanza della quale si vengano a creare degli effetti venturi molto forti molto accentuati il rimedio potrebbe essere l'abbiamo già sperimentato altrove in Italia ma l'abbiamo sperimentato adesso anche in Abruzzo mettere dei capitelli collegati tra loro con una sagola tarrozzata per fare in modo che chi non dovesse riuscire a vincere la forza del mare possa diciamo appendersi possa sostenersi a questa sagola aspettando che arrivino i soccorsi soccorsi che in questo caso verrebbero svolte in maniera più sicura perché non c'è la concitazione del fare presto ecco fare presto sì ma non correre dei rischi eccessivi proseguiamo andiamo sulla pagina di Pescara Metropolitana del messaggero perché ritroviamo un'altra notizia che riguarda un approfondimento più che altro che riguarda l'incendio di Fontevetica nei guai 14 pescaresi i carabinieri forestali hanno individuato un gruppo di ragazzi come presunti responsabili del rogo del 5 agosto sul Gran Sasso racconti discordanti negli interrogatori per coprirsi a vicenda resta da stabilire chi abbia acceso il barbecue il caso è nelle mani delle PM Picuti rischiano tutti una denuncia per incendio colposo WWF si costituisce parte offesa intanto nelle pescarese le fiamme non danno tregua i vigili del fuoco impegnati su vari fronti l'esercito invece impegnato a rigopiano torniamo sul centro ancora cronache da Pescara troppo rumore in piazza i cittadini dicono subito controlli per quanto riguarda via Cesare e Battisti il comitato tranquillamente Battisti sollecita accertamenti a comune municipale dubbi sull'occupazione di suolo pubblico sugli orari e sulla vendita di alcolici da Zanni cabine elettriche marcia a piedi colabrodo quartieri degradati appello del comitato civico di via dalla chiesa a Enel e H per le condizioni disagevoli e pericolose delle strade l'acqua zampilla dai muri ancora andiamo invece nella pagina che riguarda l'area metropolitana spettacoli estivi spesi in due mesi 410 mila euro siamo a Francaville il consigliere dei 5 Stelle Sarchese fa il conto dei fondi stanziati per arrestire ricco cartellone estivo ma alla lista mancano gli appuntamenti di giugno e di settembre nel frattempo da ieri in piazza Sirene è disponibile un maxischermo per seguire il blue bar che invece si svolge in piazza Sant'Alfonso nella zona nord a San Giovanni Tiatino in arrivo i bidoni con il microchip per la raccolta differenziata e nel taglio basso Pianella ecco il parco in memoria di Elena Finocchio andiamo ancora avanti nelle pagine di Montesilvano cittadinanza attiva Parco Falcone il comune cerca sponsor per aprire dopo le donazioni di 5 ex giocatori del Pescara e di numerosi privati nuovo bando per completare l'area intitolata al giudice ucciso dalla mafia e poi sempre da Montesilvano zona di Viale Europa 4 ore di blackout insorgono i commercianti i tauci di confesarcenti i frigoriferi e condizionatori fuori uso in supermercati e ristoranti negozi costretti alla chiusura e danni per migliaia di euro da Città Sant'Angelo il sindaco Florindi dice non vogliamo l'ecotassa il sindaco ribatta alla minoranza sui ritardi del servizio dei rifiuti ancora avanti altra notte di roghi nelle pagine di Penne dell'Alta Val Pescara 12 ettari in fumo ancora emergenze incendi nel Pescarese sotto bosco distrutto nella zona di Alanno tra Caramanico e Sante Eufemia tre comunità in lutto per Cristiano Ruggeri disposta all'autopsia per l'operaio di Edice nel taglio basso andiamo a vedere quest'altra notizia che arriva da Rocca Morice siglato il patto italo-canadese festa in piazza dopo la donazione di un apparecchio per la brachiterapia alla ASL di Pescara da parte appunto della comunità italo-canadese ora andiamo sulla pagina di Chieti sempre sul quotidiano il centro ipertermia fatale tre morti per la febbre alta questo è il titolo di apertura di cronaca a casi a Lanciano due pazienti di Vasto e San Salvo e uno a Chieti è eseguita l'autopsia che appunto ha dato il risponso del titolo una donna di 51 anni si è sentita male domenica sera entrata in comode e deceduta lunedì con temperatura corporea giunta a 42,8 gradi i medici del presidio Frentano hanno voluto ulteriori accertamenti l'avvocato Tascione decideremo cosa fare una volta acquisita tutta la documentazione il primario di anestesia del Renzetti dice l'organismo va tenuto idratato bene nel taglio basso invece la università d'annunzio l'ultimatum dell'ex DG sette giorni per tornare del vecchio dice illegittimo il mio licenziamento e minaccio un nuovo ricorso in tribunale torniamo sul messaggero andiamo a vedere le altre le altre pagine passiamo a vedere la pagina di Chieti autobus come forni oltre 40 gradi sulle corse per Pescara vecchi e senza aria condizionata i mezzi impiegati dalla tua disagi anche sulla linea 1 della panoramica e protestano gli utenti il 98% delle nostre macchine è climatizzato si difende la D dell'azienda urbana Franco Chiacchiaretta un assessorato regionale alla ex GIL proposta per rilanciare la struttura l'edificio dimenticato il consigliere di Forza Italia Vitale chiede il convolgimento del comune nel taglio basso provincia avvia il bilancio subito i lavori sulle strade poi Chieti pulita l'assessore chiede l'impegno ai cittadini nella pagina di Lanciano Vastortona morte improvvisa a Renzetti e Giallo abbiamo visto anche in precedenza nulla da fare per Adriana D'Aloisio 51 anni di vasto soccorsa per la febbre alta e poi trasferita in rianimazione la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo l'autopsia nel pomeriggio di ieri non ha risolto il mistero e poi da San Salvo donna trovata morte in casa dopo due giorni Dominica Nova che è la vittima vedete le persone addette che portano via il corpo dall'appartamento c'era sangue vicino al corpo e questo sulle prime alimentato il giallo presto svelato un'emorragia interna è stata la causa della morte della donna polacca di 37 anni residente a San Salvo andiamo adesso sulle pagine dell'Aquila sempre sul messaggero sede unica del comune Biondi Boccia l'autoparco questo è il titolo di apertura della pagina non convince la presenza di acqua nel sottosuolo dell'edificio e nell'intera area è necessario verificare se il caso di realizzarla di fuori del cedro centro storico nel taglio basso per Piccinini niente scarcerazione nell'inchiesta sul MIBACT il Tribunale della Libertà invece ha colto la revoca della misura per Mauro Lancia e Marcello Marchetti la pagina di Avezzano sul Mona il pronto soccorso è da Terzo Mondo un gruppo di medici dell'ospedale Marsicano sottoscrive una clamorosa protesta e si rivolge ad un avvocato dove non è riuscita ad arrivare la politica gli operatori sanitari invocano l'intervento della magistratura l'esposto denuncia è stato affidato ad un noto legale Marsicano e poi i morti sulla 24 la procura apre una inchiesta per far luce sulle cause della morte di due persone sulla 24 tra Tivoli e Castel Madama si tratta di una coppia Guido Petrocchi e Gisella Venditti oltre all'operaio Cristian Ruggeri di Montesilvano continuiamo con il quotidiano il centro andiamo a vedere anche la pagina dell'Aquila terremoto e processi truffa con i fondi del sisma in due vanno a giudizio lavori in Viale Corrado IV nei guai un imprenditore un tecnico scagionato il committente ristrutturazione di un condominio assolti in tribunale da ogni accusa corridore e circci questo per quanto riguarda i terremoti e i processi mazzette liberi lancio e marchetti abbiamo visto in precedenza nel taglio basso la classe multietnica racconta il fucino dopo il caso Gioia dei Marsi e con la risposta di una scuola di Avezzano qui la diversità non è una ferita andiamo a vedere anche la pagina di Teramo bonifica del tronto multe alle prostitute ai clienti in aumento 40 da aprile questo è il titolo di apertura della pagina teramana e poi la siccità che mette a secco le esorgenti con trade e frazioni rimangono senza acqua e poi la statua della madonna decapitata Giulianova veniva da Meggiugorio e era davanti al santuario dello splendore continuiamo con le notizie dal Teramano aprendo le pagine interne della città il comune punta su 890 posti all'acqua viva per quanto riguarda il piano scuole sicure Brucchi chiede ad Errani che è il commissario per la ricostruzione moduli provvisori in grado di diventare definitivi alla scuola d'Alessandro viabilità è l'unica questione progettuale ancora da definire continuiamo la balla di Ferragosto sui lavori del corso altro che pochi giorni di stop cantiere fermo fino al 23 ancora una volta il comune smentisce se stesso e poi se l'housing sociale naufragasse solo a chi so a chi dare la colpa il sindaco replica la Cardelli al comitato civico avanti come un treno sul progetto per la riqualificazione di Via Longo andiamo in provincia camion si ribalta 5 ore di caos sulla A14 due ferite e code chilometriche per lo spettacolare incidente avvenuto nei pressi del casello di Val Vibrata il traffico ovviamente è stato paralizzato code anche di 8 km l'incidente il grosso camion frigorifero ha urtato contro i New Jersey e si è ribaltato nel mezzo della carreggiata due pensionati indagati per l'omicidio stradale la magistratura vuole chiarire le cause della morte del medico Giuliese dell'agricoltore di Mosciano tramite il sostituto procuratore Andrea De Feis la procura di Teramo ha disposto l'autopsia sui corpi di Gianni Di Febbo e Giovanni Core deceduti entrambi mercoledì ancora il Canadair spegne le fiamme a Valle Castellana decisivo l'intervento dall'alto per l'incendio che ha minacciato una chiesa e diverse abitazioni ora andiamo a vedere lo sport riapriamo il quotidiano il centro e eccola qui la pagina che riguarda il Pescara Pescara incontro per Embalo e Pessina Polidori a Vercelli un altro passo a un passo all'esterno del Palermo e la mezzala dell'Atalanta tentativo per il difensore Bastoni Oddo rifiuta intanto il Brescia nel focus Coppa Italia oggi Torino Trapani e poi domani sera i Biancazzurri di scena a Brescia per il terzo turno della Team Cup nel taglio alto Perrotta a giocare qui è un sogno mi auguro di rimanere prima del test con il Pineto Marco Perrotta parla del suo ritiro con Zeman che si è da poco concluso in realtà il giocatore aveva già svolto la preparazione con il tecnico Boemo nel 2011 quando aveva soli 17 anni nel taglio basso l'amichevole di ieri sera a Pineto il Pineto sorprende le seconde linee del Delfino Biancazzurri K.O. davanti a 800 spettatori Zeman schiera i partenti in tribuna l'ECT dell'Under 21 di Biaggio partita che è finita 2-1 per il Pineto che milita nel campionato di serie di noi invece andiamo ad ascoltare l'intervista nel dopogara al presidente del Pescara Daniele Sebastiani che parla anche e soprattutto di mercato Presidente Sebastiani allora si parla ovviamente ancora e sempre di più di mercato ben alì Memushai e Biraghi sono prossimi all'uscita ma no sono quelli che hanno delle offerte le valuteremo e poi decideremo insieme è evidente loro lo sanno dall'inizio che da Pescara non si muove nessuno se non sono pagati e quindi sono giocatori di valore e Pescara se li tiene stretti se non hanno corrisposti i giusti valori ai giocatori Per quanto riguarda Pessina è più vicino al Pescara il giocatore dell'Atalanta in questo momento Presidente? No Pessina da quello che mi risulta ancora non decidono se metterlo in uscita o meno quindi al momento è più vicino all'Atalanta Bovo e Fornasier si dice i rumors di mercato che sono in partenza da Pescara è così almeno uno dei due invece Bovo e Fornasier in questo momento stanno finendo la parte di riabilitazione e poi una volta finita quella parte lì sapete tutti che Bovo ha una clausola sul contratto io sarei contentissimo di tenerlo e per Fornasier dovrebbe però arrivare almeno un altro difensore centrale Presidente? Sì intanto stiamo chiudendo l'acquisto del giovane Risalde e sicuramente se uscirà qualcun altro andremo a prendere il sostituto ma al momento abbiamo 5 o 6 di difensori centrali importanti che se dovessero rimanere penso che farebbe piacere a tutti Ma cosa le ha chiesto Zeman in queste ultime ore? No Zeman non chiede non chiede altro che poter lavorare con un numero giusto di giocatori ce n'è ancora qualcuno in più ci stiamo lavorando nei prossimi 7-8 giorni penso che la rosa sarà completa e al punto giusto per poter continuare a lavorare per bene Ultime due battute Presidente sabato c'è questa gara di Coppa Italia con il Brescia ovviamente cercherete di vincere per passare il turno E certo noi andiamo a giocare per vincere sicuramente non andiamo lì per snobbare la Coppa Italia che per noi è importante e cercheremo di passare il turno Andiamo a vedere l'Abruzzo Sport del messaggero Pescara vertice di mercato in apertura ieri sera il patron Sebastiani il tecnico Zeman i direttori sportivi a cena per il rascio finale delle operazioni la gente di Pessina però Gela e il Delfino non è in uscita il Benevento riformula l'offerta per Memushai Bovo al Genova e poi abbiamo visto l'amichevole di Pineto c'era il CT di Biaggio amichevole vinta dal Pineto bagno di folla per la nuova SIE Cortona il presidente Lanci dice sono fiducioso questa squadra andrà lontano in campionato andiamo a vedere anche la Lega Pro il Teramo aspetta il calendario in programma questa sera all'Aurum di Pescara Petrella intanto va alla Triestina e poi arbitri pescaresi oggi scatta il raduno appuntamento in una località alpina austriaca poi a Ferragosto la visita a Zurigo alla home della FIFA andiamo a vedere anche la città il titolo sul Teramo Ventola il Bonolis sarà la nostra arma in più l'ex difensore della Maceratese noi siamo abituati a giocare qui e saremo sicuramente avvantaggiati oggi come detto i calendari torniamo sul centro ancora il Teramo Ventola vota Asta il suo calcio mi piace puntiamo ai playoff il terzino fa un primo bilancio qui siamo una famiglia Petrella saluta e passa la Triestina domani la Coppa Italia oggi alle 18 viene svelata la nuova stagione all'Aurum di Pescara con i calendari delle 56 squadre divise in tre gironi per la Serie C o Lega Pro che dir si voglia nel taglio basso il calcio a 5 oggi il calendario della Serie A Pescara ridotte le squalifiche di Borruto e Caputo poi Menna ritorna l'Avezzano e fa infuriare l'Avastese per la Serie D il difensore Lasce Biancorossi il DS Micciola furibondo comportamento poco professionale i marsicani prendono anche Vitelli Aquilanti rifiuta il Francavilla ed è a un passo dalla Paganese e poi cessione del Roseto Basket la tifoseria non ci sta dura presa di posizione degli ultra della Curva Nord l'associazione Love Sharks dice serve chiarezza noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna stampa di mattino 6 prossimo appuntamento domani mattina alle ore 8 mentre la nostra informazione oggi torna alle 14 alle 19 e alle 23 con il TG6 grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti